La parata è iniziata da qualche minuto, prima preceduta dal discorso di Giorgio VI che è stato letto dal M.E.A. di Andershoff e adesso sono ispirati già alcuni gruppi di militari, la banda, e là ci sono delle macchine d'epoca, se li vedete, sono ispirando in coda e qua arrivano... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.